Quattordicesima in arrivo anche per i pensionati. Scade oggi il termine ultimo per il pagamento della mensilità aggiuntiva da parte dell'Inps. A riceverla saranno circa 3,15 milioni di italiani. Un'iniezione di liquidità aggiuntiva che raggiungerà complessivamente il valore di circa 1,65 miliardi, ma che per massima parte è già impegnata. L'82% dell'ammontare della quattordicesima dei pensionati sarà infatti assorbita dalle spese obbligate, dalla salute e dalle bollette. Utilizzare insetti per la produzione di biocarburanti avanzati, materiali innovativi biodegradabili o fertilizzanti agricoli. È l'obiettivo di un progetto condotto da un team di ricerca del centro Enea della Casaccia, che punta ad alimentare larve di insetto. Durante la crescita le larve riescono ad operare la bioconversione di questi substrati organici, trasformandoli in molecole che possono trovare applicazione in campo energetico, cosmetico, farmaceutico e agroindustriale. I CDA di Cattolica Assicurazioni e i Crea Banca hanno deliberato il rinnovo della partnership banca assicurativa fino al 31 dicembre 2022. In particolare è previsto il riassetto partecipativo delle joint venture e un nuovo patto parasociale, con l'acquisizione da parte di Cattolica Assicurazione di un ulteriore 19% del capitale sociale di BCC Vita e BCC Assicurazioni. Compie il primo anno di attività all'impianto A2A di trattamento dei rifiuti elettrici ed elettronici realizzato all'interno del carcere di Bollate, un'attività che attualmente coinvolge 5 detenuti avviati all'inclusione sociolavorativa. L'obiettivo è quello di accrescere il numero di persone coinvolte nel progetto. Massimo Simonini, AD e direttore generale di ANAS, è il nuovo presidente della World Road Association per l'Italia. Simonini guiderà il Comitato Italiano dell'Associazione Mondiale della Strada, che comprende 140 paesi e che ha come obiettivo la condivisione delle best practices internazionali su tutti i settori delle strade. Grazie a tutti. Grazie a tutti.